minaccia e deruba adolescenti all'uscita di un supermercato arrestato 25enne recidivo a baia flaminia una svolta all'insegna dell'abbattimento delle barriere architettoniche in 400 supermercati marchigiani torna la giornata della colletta alimentare 120 in 26 borghi pronto a partire il natale che non ti aspetti sport domenica nera per la vl e la vispesaro gioisce la megabox valle foglia buona serata e benvenuti al nostro telegiornale oggi è lunedì 11 novembre apriamo questa edizione parlando di cronaca e con un episodio di micro criminalità ai danni di adolescenti avvenuto a pesaro vediamo il servizio ha avvicinato una comitiva di 11 adolescenti fra gli 11 e i 15 anni con un eloquente datemi tutti i soldi che avete in tasca o vi rubo le biciclette protagonista dell'atto intimidatorio è stato un 25enne già noto alle forze dell'ordine che nel tardo pomeriggio di sabato avvicinato con questa minaccia il gruppo di ragazzini in questione nei pressi dell'ingresso dell'ipercop 25 anni già individuato dagli uomini della questura grazie al sangue freddo di uno dei ragazzi un 14enne che al cospetto della minaccia ha reagito chiamando la polizia avvertendo di quanto stesse avvenendo per tutta risposta il 25enne ha deciso di rubare il cellulare al ragazzo dileguandosi ma la segnalazione alla questura è andata a buon fine con l'uomo che è stato intercettato poco dopo da una volante 25enne che è stato condotto in questura assieme ai minori che accompagnati dai genitori hanno raccontato lo svolgersi dei fatti questa mattina il 25enne di origine tunisina è stato processato per direttissima nel tribunale di pesaro gli è stato imposto l'obbligo di firma in questura tre volte la settimana poco più di una settimana fa lo stesso 25enne era già stato arrestato dalla polizia per il furto di una borsa e il tentato utilizzo di una carta di credito contenuta al suo interno un nuovo passo avanti nell'abbattimento delle barriere architettoniche va in questa direzione il cantiere che sta per insediarsi in Baia Flaminia favorendo l'accesso di persone con disabilità sia in spiaggia sia nelle aree verdi fin qui inaccessibili vediamo Baia Flaminia sempre più accessibile anche nelle sue aree meno attrezzate va in questo senso il progetto di abbattimento di barriere architettoniche nei collegamenti fra le aree verdi del campo di marte e la fine della pista ciclabile fino alla spiaggia libera che affaccia dal lido pavarotti si tratta di un progetto pronto ad essere cantierizzato che si inserisce all'interno del bando ministeriale marche for all in cui pesaro da fine 2022 ha ottenuto 300 mila euro di contributi statali e regionali sarà infatti un cantiere da 150 mila euro quello che porterà a creare sentieri percorribili che dalla strada si congiungeranno con la spiaggia libera le pendici del san bartolo rendendo ulteriormente inclusivo uno degli angoli più suggestivi del litorale e al contempo mettendo a terra un altro degli obiettivi del piano di eliminazione delle barriere architettoniche istituito a pesaro un lavoro a più mani fra comune ente parco san bartolo lega navale centro servizi volontariato che coniugherà la realizzazione di sentire accessibili una nuova segnaletica nuove piantumazioni e creazioni di aree ombreggiate pesaro capitale della cultura non trascura la cultura del benessere va in questo senso la quarta edizione del progetto walk in progress che vi illustriamo in questo prossimo servizio si è tenuta questa mattina presso la sala del consiglio comunale di pesaro la presentazione della camminata finale del progetto walk in progress dove lo sport incontra la salute per una camminata di 10 chilometri dopo un allenamento di 10 settimane un'edizione speciale quella di quest'anno per un evento che nella sua quarta edizione abbraccia la cultura di pesaro 2024 con ogni suo passo l'obiettivo è quello di portare persone poco allenate o che non si allenano da tempo a poter svolgere la camminata dell'evento finale di 10 chilometri mediante un allenamento di 10 settimane quindi esiste la possibilità di allenare le persone che sono principianti oppure le persone che invece sono un po più allenate quindi seguono un programma un po più avanzato quindi in questi in questi 10 settimane noi ci siamo allenati ci siamo incontrati ogni martedì al campo scuola al mare e molti si sono anche allenati per conto loro e parteciperanno alla camminata finale quest'anno che cosa c'è di nuovo c'è di nuovo che abbiamo scoperto che essendo pesaro capitale della cultura il nostro percorso passa attraverso tutti i monumenti principali della città e quindi abbiamo insieme al comune redatto una mappa interattiva che si trova sul sito della ast sul sito del comune sul sito di walk in progress e quello di movens dove è possibile cliccare sui vari numeri e quindi sapere avere indicazioni sul monumento che al quale ci stiamo avvicinando oltre a questo abbiamo anche scoperto che il nostro percorso è un percorso senza barriere e quindi quest'anno abbiamo invitato alla camminata anche i riders di pesaro e quindi loro si sono allenati per conto loro però parteciperanno all'evento finale da quattro edizioni un evento che promuove la cultura del movimento uno stile di vita corretto un percorso di 10 settimane che si conclude con questa con questa camminata di 10 chilometri è un percorso che abbiamo visto al quale molte persone hanno deciso di partecipare negli anni ed è uno stile di vita che poi hanno scelto anche di adottare abitualmente è un po questo lo spirito un'iniziativa che vede protagonisti il comune di pesaro insieme a movens insieme all'ast perché tutti abbiamo lo stesso obiettivo avere dei cittadini che hanno una consapevolezza diversa su quello che può essere la cultura dello star bene nell'anno in cui siamo capitale italiana della cultura è un progetto importante anche in quest'anno della capitale della cultura anche se parte da lontano e noi vogliamo lavorare per il benessere dei cittadini quindi per fare prevenzione questo passa dall'attività sportive dall'alimentazione e dall'attività fisica quindi in questo momento è molto importante il comune aderisce e in quest'anno della capitale della cultura abbiamo sempre pensato che cultura non fosse solo la cultura dell'arte ma forse anche questa cosa qui la cultura della salute e della prevenzione ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni vi ricordo sempre il vostro contributo è preziosissimo quindi vi invitiamo a mandarci foto o video al 370 366 72 10 le immagini che vi mostriamo questa sera ci arrivano da strada dei colli che collega pesaro alla frazione di trebbia antico una strada in cui ci sono stati diversi smottamenti dopo l'ondata di maltempo di un mese fa e nonostante la rimozione della vegetazione caduta restano diverse situazioni di alberi pericolanti particolarmente rischiosi per la sicurezza dei veicoli in transito la segnalazione invita dunque ad un monitoraggio per la definitiva messa in sicurezza della sede stradale continuiamo con questo secondo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che riguardano in modo particolare l'ala più nuova del cimitero centrale di pesaro dove periodicamente si concentrano deiezioni di piccioni e volatili in decorose proprio per la sacralità del luogo nonostante i deterrenti applicati dai servizi cimiteriali e ripetuti interventi di pulizia il problema continua a ripetersi ed ora una comunicazione di servizio marche molti servizi comunica che a seguito dei lavori di ammodernamento della rete idrica attualmente in corso in varie zone della provincia domani 12 novembre si verificheranno due situazioni di interruzione dell'erogazione dell'acqua una di queste avverrà nell'abitato di colombarone frazione di pesaro fra le 9 e le 17 l'altra verrà nel comune di lunano fra le 8 e le 15 e riguarderà il centro storico e le località camino nuovo mondo e monte illuminato la camera di commercio delle marche ha completato i suoi organi di governo per il nuovo mandato 2024 2029 il confermato presidente gino sabatini ha annunciato infatti che per lo svolgimento dell'azione camerale sarà affiancato da quattro vicepresidenti vale a dire massimiliano polacco luca gastreghini giorgio menichelli e marco pierpaoli a fano sono partiti questa mattina i lavori di pulizia e sfalcio del verde nell'area dell'ex convito vittoria colonna interventi volti a rendere fruibile l'area destinata parcheggio che ospiterà oltre 50 stalli che daranno respiro alla sosta ai margini del centro storico riqualificando al contempo un'area più volte oggetto di bivacchi abusivi e relativi sgomberi mercoledì 13 novembre ricorre il 156esimo anniversario della morte di giochino rossini per l'occasione sarà aperta gratuitamente alle visite casa rossini mentre il museo nazionale rossini sarà aperto gratuitamente per tutti i residenti di pesaro e comuni limitrofi domenica 17 novembre invece è in programma un tour guidato fra alcuni luoghi della città che ripercorrono la memoria dello stesso rossini e torna l'appuntamento con la giornata della colletta alimentare sabato 16 novembre 5 mila volontari del banco alimentare saranno presenti in 400 supermercati marchigiani per un prezioso momento di solidarietà verso le persone in stato di indigenza oltre 5 mila volontari quindi è una mobilitazione veramente importante e partecipano veramente tutti da associazioni enti caritativi partner aziende persone semplici e abbiamo dei partner storici è uno spettacolo di soggetti che collaborano anche tutto l'anno col banco alimentare perché il banco alimentare nelle marche e in italia lavora ogni giorno dell'anno nei suoi magazzini raccogliendo e distribuendo gratuitamente il cibo agli enti caritativi del territorio nelle marche noi serviamo 290 enti caritativi che a loro volta servono 43 mila persone e oltre in difficoltà economiche quindi difficoltà in povertà alimentare quindi è davvero un'attività importante e il gesto della colletta che è una giornata nazionale giunta alla ventottesima edizione quest'anno si svolgerà nelle marche in 398 punti vendita che hanno aderito a questa iniziativa punti vendita della grande distribuzione dove ci saranno i volontari in pettorina arancione che offriranno e chiederanno alle persone che vanno a fare la spesa di donare una spesa al banco alimentare che a sua volta donerà questo cibo ai soggetti che sono in difficoltà mi sento non solo di rivolgere un appello a partecipare a questa colletta ma mi sento di dare tutta la nostra gratitudine per quello che quotidianamente si fa perché c'è il giorno della colletta ma dopo il giorno della colletta c'è tutto l'enorme lavoro che viene prima e poi anche dopo quindi veramente grazie si tratta di volontariato e noi sappiamo benissimo che il volontariato nel nostro paese è un valore aggiunto i dati oggi si dicono che abbiamo raggiunto circa un 11 per cento della povertà all'interno delle marche è un dato particolarmente preoccupante perché denota una crescita esponenziale nel tempo il post covid ci ha dato anzi ci ha restituito un grandissimo peso e quindi dobbiamo in qualche modo cercare di superarlo anzi arginarlo con il nostro supporto e noi abbiamo avuto un 6 per cento in più nelle marche di raccolta e tenete presente che la raccolta della colletta rappresenta il 10 per cento del nostro raccolto annuale quindi è una è una parte importante del nostro lavoro e quindi con questo contributo con questo arricchimento con questo aumento che non ci aspettavamo tra l'altro perché è stato un anno difficile anche l'anno scorso siamo riusciti a raggiungere siamo passati dalla quale dalle 42 mila persone qualcosa alle 43 mila anche perché i nostri soggetti i nostri enti caritativi sono in aumento 120 in 26 borghi della provincia di pesaro urbino è questo ricco programma di natale che non ti aspetti iniziative che partiranno il 23 novembre che sono state presentate in una serata di gala al teatro della fortuna di fano vediamo è stato il gran galà delle proloco al teatro della fortuna di fano ad alzare il sipario su quello che sarà il natale che non ti aspetti un ricco programma natalizio che attraverso l'umpli mette in rete gli eventi di 26 borghi della provincia pesarese vestiti a festa con le loro proposte più variegate dedicate a famiglie ai più piccoli un momento di festa per i volontari delle 26 proloco riunite per un'occasione a teatro aglietata anche dalla comicità del san costanzo show dunque pronti a partire con più di 120 dal 23 novembre all'epifania apriamo le porte natale per quanto riguarda i nostri piccoli territori che fanno tantissimo un grazie sicuramente va a tutti i volontari al comitato provinciale che che è qui che ha organizzato questo anche quest'anno questo appuntamento in tutti i borghi facendo una squisita rete di nei nostri territori in questi territori quindi un prodotto che sicuramente dovrebbe essere esportato in tutte le marche creando dei bei circuiti e magari perché no come dico sempre un bellissimo brand in tutte le marche per il natale in un periodo dove magari non è canonicamente turistico ecco quindi aiutando il commercio aiutando i nostri paesi magari riscoprendo i nostri piccoli borghi è stata una serata di successo all'insegna della condivisione della unione tra tutte le proloco aderenti che quest'anno sono 26 è stato presentato in anteprima il calendario contenenti tutti gli eventi natalizi che partiranno dal 23 novembre termineranno con l'epifania quindi il 6 gennaio un grande evento di promozione da parte delle proloco un gran galà all'interno di una cornice meravigliosa come il teatro della fortuna di fano dove non solo noi promoviamo tutto tutti gli eventi che ha fatto la conf commercio e il proloco durante l'anno ma promuoviamo anche tutto l'impegno dei volontari all'interno delle proloco quindi diventa un modo per riuscire a dire grazie ai tanti volontari a dire grazie alle proloco che operano sul settore e continuare questa partner e partnership tra conf commercio e le proloco per noi era importante poter ospitare questo evento proprio nello spirito di collaborazione che al teatro della fortuna con tutto il territorio la scelta di questa nuova gestione del teatro è quella appunto di collaborare con tutte le associazioni cercare di promuovere le eccellenze quale migliore l'occasione di questa per poterle mettere in mostra weekend molto particolare al ranch di valentino rossi a tavuglia dove è stato ospite l'ex campione di motociclismo australiano casey stoner i due ex campioni mondiali si sono ritrovati in pista sfidandosi in una giornata all'insegna della loro passione comune dopo anni di accesa rivalità stoner in questi giorni è infatti stato in italia per partecipare al salone del motociclo eicma e ne ha approfittato per visitare tavuglia attraverso i suoi canali social ha scritto sono cambiate tante cose tra me e vale negli ultimi 12 anni la famiglia gli amici ma la passione per le moto sarà sempre la stessa grazie per l'opportunità di condividere la pista con te ancora una volta e continuiamo a passare di sport ma questa volta non parliamo di motori bensì di altri sport del nostro territorio perché è stata una domenica negativa sia per la carpegna prosciutto basket pesaro ma anche per la vis sorride invece la megabox vale foglia in una surreale vitrifrigorena priva del tifo delle curve la vl perde al cospetto della capolista rimini con il punteggio di 82 76 al tifo riminese non ammesso per decisione prefettizia risponde lo sciopero della curva marco piccoli che resta all'esterno del palazzo in disaccordo col provvedimento in campo invece rimini fa valere la sua forza e la vl prova a restare in partita con uno scatenato amad che segna la bellezza di 38 punti ovvero la metà della squadra ma predica nel deserto pesaro parte male nel primo tempo con percentuali scadenti al tiro che la mandano all'intervallo sotto di 10 meglio il secondo tempo con la vl che arriva fino almeno due ma non trova il guizzo per portarsi avanti rimini amministra la situazione chiude vincendo di sei punti mantenendosi in testa con nove vittorie su dieci per la vl la settima sconfitta che relega pesaro in un quartetto di squadre al penultimo posto si ferma invece dopo sette turni utili la striscia positiva della vispesaro che perde 2 a 0 in casa della pianese una sconfitta immeritata e incanalata da due episodi il vantaggio dei toscani con la vole vincente del capitano simeoni dopo 14 minuti e la discutibile espulsione per doppia munizione del difensore coppola 73 minuti 10 contro 11 la vis gioca con orgoglio e riesce a rimanere incollata la partita cogliendo due pali clamorosi con le fucilate dalla distanza di di paola prima di doversi arrendere al 2 a 0 dell'ex da pozzo a quattro minuti dal termine torna invece alla vittoria la megabox vallefoglia che spugna in 4 set il campo capitolino della smiroma presa per mano dalle ottime prestazioni di lì e bici rispettivamente 19 17 punti ciascuna la megabox vince il primo set 25 a 20 cede il secondo 25 a 22 prima di chiudere in crescendo con un combattuto 25 a 23 e un risolutivo 25 a 14 nel calcio a 5 quarta partita e quarta sconfitta per l'ital service pesaro che nel venerdì del pala megabox cade 3 a 1 al cospetto dei campioni d'italia in carica della meta catania pesaro crea occasioni in serie nel primo tempo ma catania è più cinica e chiude 1 a 0 all'intervallo per poi gonfiare la dote nella ripresa sul 3 a 0 non addolcito dal 31 finale di ottimeia dopo un calendario che ha messo pesaro davanti a tante big ora servono davvero punti e allora appassionati di sport continuate a restare con noi perché adesso subito dopo questa edizione intanto ci sarà uno spazio dedicato alla natura della cultura di pesaro 20 24 e si parlerà della settimana di cartocetto quindi tra pochissimo intanto vedrete questo approfondimento e poi invece alle ore 21 vi trasmettiamo la partita che si è tenuta ieri sera alla vitre frigo arena della carpegna prosciutto basket pesaro contro riviera banca basket rimini domani invece vi aspetto con la consueta rassegna stampa il momento in cui in diretta ci diamo il buongiorno leggendo i titoli dei quotidiani locali grazie come sempre per essere stati con noi potete rivedere tutte le edizioni del nostro telegiornale sul nostro sito www.rossinetv.it buona serata